Siamo pronti per arrivare in Sardegna ma per il momento siamo nel traffico della tangenziale di Milano alla pizzeria della Venezia accettano gli animali, infatti siamo qui a mangiare la pizza con Artù a Livorno pronti per salpare, ci vediamo più tardi, ciao! Amici buongiorno, sono le 7 del mattino e siamo arrivati nella terra sarda, la Sardegna! Sette e quarantadue, siamo arrivati in Costa Smeralda! Adesso mi sai che lo prendo, come stai? Siamo arrivati in Sardegna, un viaggio perfetto! Cari amici, Artù in questo momento deve soltanto stare in questo paradiso, un paradiso secondo me per i nostri amici a Quattrozampe perché ovviamente le spiagge qui a Capricioli me ne sono ancora ammesse! Prometto che questa settimana andremo a chiedere spiegazioni al sindaco di Arzachira! Ok Artù mi dispiace, per il momento stai qui! Alla prossima! Grazie a tutti.